Io penso che nella vita si possono dire delle idiozie in campagna elettorale, quando però tu dici che gli altri dicono idiozie e poi cambi idea, sarebbe bene che uno dicesse ho cambiato idea. Gualtieri ha detto due macroscopiche idiozie su due proposte precise che noi avevamo fatto, cioè lo stadio della Roma a Pietralata, dicendoci che era una cosa da campagna elettorale, non era una cosa da campagna elettorale, a meno che lui non stia facendo adesso campagna elettorale, ci aveva detto che il termovalorizzatore non serviva, praticamente sta parlando solo di termovalorizzatore. Questo per essere chiari, perché vedete nel secondo turno delle amministrative noi abbiamo dato, io ho dato un'indicazione personale di voto a Gualtieri, non perché fossi particolarmente convinto di Gualtieri, ma perché l'altro parlava solamente di bighe e ne parlava anche a sproposito, se me lo consentite, dunque non aveva un programma e oggettivamente era impossibile da votare. Credo che proprio per questa ragione noi oggi abbiamo il diritto di dire un fatto che è sotto gli occhi di tutti, cioè che in 600 giorni non si è fatto assolutamente nulla in questa città, che il sindaco è un'entità eterea, che ogni tanto appare dicendo delle cose e che non succede assolutamente niente. Non succede niente sul decoro urbano, Roma è indecorosa, era indecorosa e rimane indecorosa. La ragione è che ama non funziona, non sono stati messi i cestini che servivano, non c'è un lavoro sugli impianti che noi abbiamo dettagliato impianto per impianto nel programma elettorale, anche spiegando dove farli e che tipo di impianti, penso ai tritovagliatori, lo conoscete il programma? Era piuttosto dettagliato. Metà dei mezzi ama sono praticamente fuori servizio, questo rende la raccolta impossibile e voglio dire con grande chiarezza a Gualtieri che lui come ci ha dato ragione sul termo valorizzatore e sullo stadio della Roma finirà per doversi dare ragione sul fatto che ama deve andare in ascea per avere una gestione moderna e manageriale, altrimenti questa città non raccoglierà un rifiuto. La situazione della mobilità che noi avevamo descritto spiegando che le metropolitane non avevano fatto la revisione generale e che pertanto si sarebbero dovute diradare le corse, cosa che è successa regolarmente. Avevamo detto a Gualtieri, attento, c'è una soluzione tampone sulla Roma Lido che non puoi non percorrere perché la Roma Lido è un'ignominia nazionale. Francesco Carpano ha fatto più giri lui sulla Roma Lido di qualunque altro politico italiano e è una situazione che non esiste nei paesi del terzo mondo, altro che ostia connessa a Roma e anche lì avevamo fatto una proposta di spostare alcuni mezzi, non è stata fatta. I sottoservizi, sapete come funziona a Roma, noi lo avevamo detto in campagna elettorale, funziona che Italgas manda una PEC e poi spacca una strada, la settimana dopo arriva Fastweb, manda una PEC e spacca la strada, la terza settimana arriva un altro operatore, Vodafone, manda una PEC e spacca la strada. Certo, la stessa strada e il problema è che non c'è un processo che noi avevamo dettagliato di pianificazione per cui tu dici agli operatori te li chiami intorno a un tavolo e gli dici adesso io vi dico quale strade rifaccio, voi mi dite quali interventi avete necessità di fare, mettiamo le due cose insieme, le pianifichiamo e andiamo avanti in questo modo. Non c'è perché i processi interni del Comune di Roma sono fuori controllo e tu puoi prendere, lo dico a Gualtieri, i voti e quindi non proporre cose di rompenti dei vigili urbani, dell'AMA, dell'ATAC e dei dipendenti del Comune di Roma. Ma come gli avevo detto, la differenza è che poi non governi perché questa Comune va ribaltato nei processi interni così come tutte le municipalizzate che andrebbero accorpate in una holding di partecipate per staccarle dalla politica e dai consiglieri comunali che hanno lì i loro bacini di voti e riorganizzate. Infine la questione dei taxi. La questione dei taxi sta diventando un problema internazionale per una città che vuole concorrere ad avere, anzi non concorrere, che avrà il giubileo e vuole concorrere all'Expo. E io voglio capire qual è la mentalità per cui tu dici io applico il sistema della doppia guida che consente di ampliare i turni ma non lo fai a dicembre, lo fai a metà della stagione appena iniziata, tale per cui non ha alcun affetto concreto. Noi abbiamo bisogno di un aumento delle licenze almeno del 20% per avere lo stesso rascio che c'è a Milano. Io non sottostimo la durezza di un lavoro di un tassista, però questa città non può essere ostaggio dei tassisti e siccome siamo una città turistica e i flussi aumenteranno c'è poco da fare. Questa roba va fatta, se vogliono arrabbiare s'arrabbiassero, vanno in Campidoglio, vanno in Campidoglio, Gualtieri avesse il coraggio di riconoscere che questa situazione è una situazione che non si può più gestire e che porta non solo i cittadini romani ma soprattutto i turisti internazionali a dire se io fossi un turista internazionale oggi che non si può muovere perché le metropolitane fanno schifo e sono poche perché gli autobus sono pochi e sono stracolmi e i taxi non si trovano, io direi bellissima Roma ma io non ci rimetto più piede in vita mia. Questo è un problema perché Roma è la capitale d'Italia, è il biglietto da visita dell'Italia. Aggiungo un altro punto su questo. Voglio dire a Gualtieri che ha presentato il suo piano per la fascia verde come un grande traguardo ecologico che se tu dici a 700.000 persone da domani non potete più circolare in una porzione di Roma che non dico è grande quanto il gra ma più o meno, non stai facendo nessuna politica perché non ci vuole niente, lo fa anche un bambino di 4 anni. Semplicemente quel divieto senza le opportune procedure che oggi non ci sono perché non ci sono i mezzi, non ci sono i parcheggi di scambio, semplicemente è una presa per i fondelli e va ritirato perché guardate io ho fatto un grande piano di svecchiamento del parco circolante auto quando ero al MIS, poi sono arrivati i 5 stelle e hanno detto il mio obiettivo era portare gli Euro 3 agli Euro 5. I 5 stelle che notoriamente hanno capacità ed esperienze gestionali hanno detto no solo se compri una macchina elettrica, in modo morale non è accaduto niente. Ma tu devi lavorare lì, tu devi avere una cosa che dice questo è il piano che io faccio per abbattere le missioni nocive e lo faccio nel tempo mentre organizzo i parcheggi di scambio, compro d'urgenza gli autobus, chiedo al governo che peraltro lo dovrà fare per quelli che sono gli obiettivi di taglio delle missioni europee, un approvedimento di urgenza sullo svecchiamento del parco circolante, lo fai con un pezzo dei fondi del giubileo, fai come ti pare ma non puoi semplicemente pensare che una persona che non è che ha un Euro 3 perché gli piace avere un Euro 3 ma perché non ha i soldi per cambiarsi la macchina tu gli dici sai che c'è in questa città in cui non funziona niente da domani vai a piedi e dalla garbatella ci vieni a piedi a lavorare a Roma. Questa non è politica perché la politica si prende cura della gestione delle transizioni, questa è un'altra cosa, questa è propaganda fatta sulla pelle delle persone, tanto è così che Gualtieri ha iniziato dicendo rivendico questa grande rivoluzione ambientale e adesso sta dicendo no ma è la regione che mi obbliga. anche basta. La situazione e potrei continuare ma oggettivamente non lo voglio fare perché credo che la sappiamo tutti molto bene, non tocco la questione dei vigili urbani, la situazione della gestione del traffico da parte dei vigili urbani è gravemente carente da sempre a Roma, non è migliorata di una virgola perché non si possono toccare come i tassisti, nessuno si può toccare a Roma, c'è solo una categoria di persone che si può toccare e sono i cittadini romani. Gli altri possono fare quello che vogliono, puoi spazzare una strada, buttare quello che hai spazzato nel verde e essere sicuro che nessuno prenderà un provvedimento disciplinare, puoi rifiutare di mettere il GPS sui camion della raccolta perché c'è un problema con i lavoratori, che problema c'è? Stai lavorando, sei nell'orario di lavoro, io voglio vedere quanto circoli o in quanto ti muovi, qual è il problema? Qual è il problema? La verità è che questa città come noi avevamo detto, perché voi ve lo ricordate che è una delle ragioni per cui ho chiesto il voto ai cittadini romani che oggi incontro e mi dicono ho sbagliato a non votarla, ma tanto lei la prossima volta si ripresenta col cavolo che mi ripresento perché non è che qua è a rate la coi, rifavamo un anno di campagna elettorale, ve lo siete votato e mo ve lo tenete e espiate, ma al di là di questo c'è un punto, era chiaro e noi l'abbiamo ripetuto mille volte, che il partito democratico di questa città è legato in questo modo a ogni singola lobby che in questa città esiste e non c'era un verso di cambiare questa città con questa situazione, era evidente, l'abbiamo ripetuto per un anno mentre andavamo punto per punto a dargli gli esempi, allora sapete che c'è? Noi dobbiamo anche essere consapevoli di quello che ci provochiamo da soli, Gualtieri ha il più straordinaria concentrazione di poteri da molto tempo a questa parte, poteri commissariali, soldi per il giubileo, dice lui soldi residuati dalla precedente gestione che non sono stati spesi, va fatto un piano straordinario sul decoro urbano attingendo con gare d'urgenza a risorse che non si trovano oggi né in AMA né in altre società municipalizzate, questo era il nostro piano, questo è quello che chiediamo, non volete i percettori? del reddito di cittadinanza con un reddito integrato a fare gli spazzini di quartiere, figura che è fondamentale ristabilire, fondamentale ristabilire, non lo volete? Assumeteli, fate come vi pare, ma va fatto un piano straordinario sul decoro, questa città non merita quello che sta accadendo. Io adesso Francesco, Flavia, Giuseppe vi faranno vedere come sempre noi abbiamo provato a fare un'analisi, punto per punto e qui però c'è un problema che noi non ci possiamo fare cinque anni così dopo cinque anni dalla raggi e non possiamo neanche assistere a un capo di gabinetto che viene mandato via perché si dice che ha comportamenti indegni e viene riassunto a risorse per Roma per fare il capo di gabinetto ombra perché, Gualtieri, fessi non siamo, fessi non siamo, allora fai il capo di gabinetto perché è più decorosa come cosa. Quindi per noi questa è l'ultima chiamata, continueremo a fare opposizione, siamo stati all'opposizione dal primo giorno in modo netto, fermo, dove bisogna collaborare anche sulle cose su cui Gualtieri ci diceva che eravamo poco seri, poco seri era lui, lo aiuteremo. Però il periodo di indulgenza dei romani, di azione e di tutti quelli che hanno provato a offrire un'alternativa seria, libera dalle lobby a questa città è finito ed è bene che Gualtieri lo sappia.